e buongiorno di nuovo dopo un po di tempo video brevissimo vi mostro come due crimpatrici sezione quadrata fino a 16 mm quadrati sezione esagonale fino a 6 mm quadrati producono terminali con ferrule di differenza sufficiente a entrare oppure no se riesco a mettere fuoco all'interno dei morsetti del famigerato isan fantastico ma con morsetti schifosi il problema che avevo era appunto quello di riuscire a fare entrare questa crimpatura a sezione esagonale dentro i morsetti perché non entra comunque la girate non ci va non si riesce a spingere anche aumentando la forza di contrazione tramite questa ghiera al massimo su questa crimpatrice non entra nei morsetti non c'è verso allora ho ordinato appena ricevuto questa quadrata che a parità di sezione ha un lato inferiore fatevi conti geometrici e questa con un po di arte eccola si riesce a fare entrare non solo entra ma siccome è quadrata riempie completamente il morsetto che ha quadrato a sua volta e quindi ha un contatto migliore brevissima considerazione su questi regolatori un'altra volta i morsetti sono penosi ripeto ma li montate una volta sola quindi impazzite la prima volta per montarli dopo li lasciate in funzione senza più toccarli quindi il fatto che i morsetti siano stati scelti così è stata una scelta infelice ma non condiziona più di tanto l'operatività dello stesso buongiorno